ciao bambini bentornati sul canale oggi io e mamma e giulio faremo un albero di natale come questo qui questo è vero invece noi lo faremo con il feltro adesso vi facciamo vedere tutto quello che ci serve vero giulio eccoci tornati allora adesso giulia vi dirà tutto quello che ci serve per fare l'albero di feltro vai giulia la forbice forbice matita gessetto colla calda brava un foglio di carta che ci servirà per fare la dima poi dei cartoncini colorati se non avete il feltro volete farlo in cartoncino giusto dei fogliettini di feltro per fare i decori che dopo vi facciamo vedere come si fanno e poi un foglio di feltro grosso un po spesso e più grande esatto adesso la prima cosa che facciamo è far vedere come si fa a fare la dima allora noi abbiamo costruito prima la dima per l'albero abbiamo preso un foglio a 4 l'abbiamo piegato in due abbiamo disegnato la nostra sagoma poi vi salviamo questo pdf quindi poi eventualmente lo potete scaricare ovviamente è in formato a 4 quando sarete a casa vostra comunque piegherete il foglio del cartoncino prendiamo un cartoncino che abbiamo già staccato che è questo giusto giulia verde lo pieghiamo a metà bene e dopo di che ci appoggiamo sopra la dima e facciamo il contorno ok disegniamo bene il contorno senza far veloce bisogna far pianino perché sennò diventa un pasticcio piano ecco qua che abbiamo disegnato il nostro alberello adesso lo ritaglieremo così dopo possiamo decorarlo giusto giulia allora mentre giulia ritaglia questo io preparerò sul foglio di feltro la stessa cosa quindi fate finta che questo sia il vostro foglio lo piegata a metà e disegnate con il gessetto la forma ora in questo caso dovete andare un pochettino a mano altrimenti vi potete aiutare con uno strumento di questo tipo che vi aiuterà a fare le varie parti del dell'albero adesso lo ritagliamo e poi vi facciamo vedere com'è venuto ok adesso giulia taglia il cartoncino verde che abbiamo che sarà il nostro alberello vero amore e io invece ritaglierò questo di feltro che è più grande esatto 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 Questi fogli di feltro grandi li trovate nei negozi per hobby, anche nelle fiere per gli hobbisti e sono fogli un po' spessi che servono proprio per creare oggetti, borse, cose di questo tipo. Vediamo, vediamo Giulia come ha fatto il suo alberello, wow, fallo vedere, è bellissimo! Adesso lo controlliamo, è venuto bene? Bellissimo! Adesso la mamma taglia questo e poi facciamo vedere come si fanno a fare i decori, ok? Sì! Allora abbiamo tagliato la prima parte dell'albero, adesso lo pieghiamo e con il gessetto, con l'aiuto del gessetto, disegniamo l'altro bordo perché tagliarlo insieme era un po' troppo spesso, si faceva fatica, quindi facciamo così, lo disegniamo e lo ritagliamo. stiamo con il gessetto e con la macchetta. Ecco qua, abbiamo disegnato il bordino, tagliamo, vedere! E ora lo tagliamo! E ora lo tagliamo! E ora lo tagliamo! è finito la mamma, è l'albero più grande! Noi abbiamo usato il feltro bordeaux perché non avevamo quello verde, ma facciamo un albero particolare, vero? Un albero rosso! Aspetta che lo schieniamo un pochino qua! Ecco fatto! Il nostro albero è pronto per essere decorato! Adesso vi faremo vedere come facciamo a fare i decori, ok? Ok! Prendiamo tutto il materiale e torniamo subito da voi, giusto? Sì! Ciao! Eccoci! Siamo pronti a fare le formine, fagli vedere le formine che abbiamo fatto! Prendi le mani che non si vedono dalla ciotola! Ecco qua abbiamo fatto di tanti colori! Le palline per l'albero! Allora, come facciamo a fare le palline? Allora, noi abbiamo questa macchinetta qua che serve per fare le varie formine. È da tanti anni che la mamma ce l'ha, vero amore? È la Big Shot e in commercio si trovano poi queste fustelle di varie forme per fare le decorazioni. Adesso Giulia vi fa vedere come si fa! Vai! Allora, si mette il foglio di feltro sulla dima che è in mezzo a queste due fogli di plexigas. Dopodiché si passa sotto la macchina e funziona un po' come una pressa, si gira, si gira, si gira, si gira e, come per magia, si fanno i cerchiolini, vero amore? Sì! Ok, adesso ne facciamo altri così ve li facciamo rivedere! Ne faremo! Questi sono rosa! Vai! Rosa scuro! Ecco qua! Benissimo! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. I primi cerchi rossi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi attaccheremo sull'albero di cartoncino verde e sull'albero di feltro. Adesso vi facciamo vedere come si fa. Eccoci, siamo pronti per decorare il nostro albero di cartone. Cartoncino, la Giulia adesso attaccherà tutte le cose. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco qua. Ecco qua. Ecco il nostro albero di Natale. Bello, 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 vero? Grazie a tutti. Bellissimo. guarda come scintillante visto abbiamo fatto un alberello scintillante adesso ci prepariamo attaccare le cose sul feltro eccoci allora abbiamo già disposto tutte le nostre formine e adesso le attacchiamo ok con la pistola calda attenzione mamma così e schiacci tu schiaccia Giulia vai schiaccia ma è bellissimo quest'albero ti piace? è bellissimo mamma bello bellissimo e l'hai fatto tu abbiamo quasi finito Giulia sei stanca? che fatica! sei stanca amore? che stanchezza con tutto questo lavoro il tuo cuore grande e adesso la stella adesso la stella e adesso la stella vai attaccala tu schiaccia tieni fatta eh wow andiamo ah ma abbiamo dimenticato questo anche questo eh quale? l'abbiamo dimenticato l'abbiamo dimenticato l'abbiamo dimenticato l'abbiamo dimenticato tutti che pasticciona sono fissi? questo forse oh guarda che pasticciona ecco vediamo vediamo facciamo vedere il nostro albero tatan ma è bellissimo ecco adesso gli facciamo il buchino per poterlo appendere ok torniamo tra poco ciao ecco il nostro albero Giulia dove sei? non ti si vede? cucù quello è l'albero grosso e l'albero piccolo dov'è? prendilo ecco l'albero piccolo adesso andiamo ad appenderli grazie a tutti ciao ciao ci vediamo al prossimo video magari prepariamo qualche ricetta di Natale è vero Giulia? cosa dici? i biscotti eh sì dobbiamo fare i biscotti di Natale per Babbo Natale a presto a presto ciao 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 ciao